Il quartiere più cardioprotetto d'Europa. Oggi il via al progetto che nella zona di Viale Dante porterà l'installazione di ben 150 defibrillatori. Chiesa del Carmine, lavori al via tra 15 giorni. Ormai tutto pronto per la partenza del cantiere. Vi presentiamo in anteprima il progetto. Il video dello spaccio ai Giardini Margherita. Documentata dai carabinieri la cessione di droga. Straniero arrestato. Alessandro e Matteo ordinati il 7 ottobre. I due piacentini diventeranno ufficialmente sacerdoti. Le loro parole nel TGL+. Iron Max alla finale mondiale. Il piacentino Massimo Leonardi si è qualificato per l'appuntamento più ambito del mezzo Ironman che si terrà in Sudafrica.